ragazzi rieccoci di nuovo insieme per la terza parte dell'apertura dei 37 pacchetti di skyridge vediamo se siamo un pochettino fortunati nella terza parte questo l'ho aperto come avevo fatto prima niente trick quindi piatto misterioso caputo gengar charizard cristallino ragazzi eccolo qui primo pacchetto della terza parte assurdo charizard cristallino aspettate un attimo che lo mettiamo il live prima di subito eccolo qui charizard tipo cristallino beh girafarig grambul voltorb ditto e sil primo pacchetto charizard tipo cristallino bellissimo c'è spettacolare io non pensavo sinceramente di trovarlo abbiamo trovato nel pacchetto e non pensavo di trovarlo in questi 33 pacchetti devo dire la verità c'è ci speravo ma non pensavo strepitosa terza parte strepitosa rovine antiche iperpozione magica raichu xatuolo spettacolo anche questa costruttore di apricorn reverse stantler farfetch sanflora e bali ed fossil palla rapida sfera miracolosa già il miracolo abbiamo fatto fatto con charizard cristallino moltres sfera miracolosa reverse nidoran sankern dunspears magikarp lo dico perché ho trovato charizard cristallino quindi posso dire qualsiasi carta marcrov non importa dico qualsiasi carta questo è completato distrutto costruttore di apricorn misdrevus articuno forretress reverse stantler farfetch barri ed fossil snorlax e nato proseguiamo non vorrei rovinare le carte quindi lo apriamo così allora zona del mistero omanite piloswine vaporeon nolo spettacolo flareon reverse ursaring che si fa il bagno e si rilassa ondur swainub e sankern misdrevus starmi gengar pikachu reverse dunspears dunspears stantler seal sanflora e nato no questo si è distrutto quindi niente da fare iperpozione magica iperpozione magica persian bidril girados solo guardate che gli occhi di girados sono spettacolo questa carta zubat reverse zubat reverse shackle weedle hunter e venonat spettacolo 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 palla esca misdrevus ghirados ratichet reverse sanzlash shackle nidorina venonat ed eracross Wow, questa si è aperta Perfetto Cacciatore di reliquie Palla esca Xatu Bidrill Reverse Zubat Stuntler Farfetch Rattata E Bored Fossil Perfetto ragazzi Anche la terza parte termina qui La spettacolare terza parte termina qui Vi aspetto per la quarta Bye bye